Si è chiuso con una crescita delle assunzioni a tempo indeterminato del 90% il triennio 2014-2016 della Multi Utility Toscana, Estra, grazie a 39 nuovi ingressi all'interno dell'azienda. I neoassunti possiedono principalmente un titolo universitario e la maggior parte di loro ricopre mansioni riconducibili all'attività di vendita e all'efficientamento energetico. Nell'ultimo anno, inoltre, sono stati attivati 38 tirocini, a cui si devono aggiungere i 65 nel 2015 e i 53 nel 2014. In un periodo in cui il nostro Paese si trova a dover affrontare un alto tasso di disoccupazione, soprattutto a livello giovanile, ha commentato il presidente del gruppo Francesco Macri, Estra ha intrapreso un percorso di responsabilità verso i propri lavoratori e il territorio di riferimento. Quasi 40 nuove assunzioni a tempo indeterminato e molti tirocini attivati in tre anni. In un'azienda come Estra, che attualmente conta circa 550 risorse, sono sicuramente un indicatore di crescita, ma, ha concluso Macri, ha anche un segnale di grande attenzione verso un problema sociale che deve rappresentare una priorità per istituzioni, aziende e parti sociali.